Mai come quest'anno, dopo tantissimi anni di Formula 1, c'è un'opportunità straordinaria che la nostra direzione tecnica deve cogliere. Un cambiamento regolamentare così importante era davvero da tantissimo tempo che non si vedeva nel nostro mondo delle corse e quindi come tale è un'opportunità che va colta anche se siamo consci delle grandi difficoltà soprattutto all'inizio della stagione che questi cambiamenti sul motore, sul powertrain in generale possono portarsi dietro. Io credo che in questi anni il processo di riorganizzazione sia stato già avviato, talvolta in maniera più silenziosa, altre volte facendo degli interventi con personaggi più notti nel mondo della Formula 1. Quindi sotto l'aspetto organizzativo tante cose sono diverse dal punto di vista degli investimenti che abbiamo fatto, non dimentichiamoci l'aggiornamento della Galleria del Vento, degli strumenti di simulazione. Questo è chiaro vuol dire dare l'opportunità ai nostri tecnici di lavorare in maniera diversa e quindi mi aspetto e ci aspettiamo ovviamente da tutti loro un risultato importante perché non possiamo certo dire che ci mancano le risorse. È chiaro che però dall'altra parte dobbiamo mantenere quei valori importanti che si sono confermati in questi anni, quindi la nostra bravura a livello delle strategie, il lavoro al pistop. Quest'anno credo che all'inizio, soprattutto all'inizio, tutti quanti dovremo capire come interpretare al meglio le gare. Sarà un'opportunità per i tifosi che ci guardano da casa per capire come l'aspetto dell'efficienza della benzina e dell'utilizzo in gara debba essere sfruttato. Quindi un elemento in più per chi ha gli strumenti migliori, le persone migliori per emergere. Ma io credo che abbiamo messo in piedi una serie di iniziative organizzative soprattutto per far sì che davvero quest'anno sia una stagione dove dobbiamo portare a casa il risultato ambito che ci manca da un po' di tempo e che abbiamo, come dicevamo prima, sfiorato per un nulla poco tempo fa. L'errore che non dobbiamo commettere è soprattutto quello all'inizio di cedere alle pressioni, che saranno tante, di entrare in un panico sportivo se, come mi aspetto, soprattutto nelle prime giornate di testi ci saranno le difficoltà da affrontare così come avranno tutti. Ecco questo è l'unico errore che pretendo dai miei uomini che non si faccia, cioè quello di lasciarsi trasportare dall'emotività che non ti fa lavorare bene in una fase all'inizio dove io credo che soprattutto l'affidabilità debba fare la differenza.